Buongiorno Daedo, l'amministrazione Biden ha presentato la scorsa settimana una nuova strategia di sicurezza informatica per proteggere gli americani dalle minacce agli impianti cruciali. La nuova strategia richiede un cambiamento di ruoli e risorse per creare un ambiente digitale sicuro e si basa su 5 pilastri. Difesa degli impianti cruciali, arresto degli attacchi, guida della sicurezza attraverso le forze di mercato, investimenti a lungo termine nella sicurezza informatica e partnership internazionali per obiettivi condivisi. Per difendere meglio le infrastrutture critiche, il governo amplirà i requisiti minimi di security nei settori critici e armonizzerà le normative per ridurre l'onere della conformità. La collaborazione pubblico-privato migliorerà per difendersi dalle minacce informatiche. Le reti federali saranno modernizzate e le politiche di risposta agli attacchi informatici saranno migliorate. Il settore privato sarà impegnato ad assistere e fornire meccanismi scalabili per raggiungere questi obiettivi e la minaccia del ransomware sarà affrontata attraverso un approccio federale globale assistito da partner internazionali. Un aspetto cruciale della strategia di Biden è che il miglioramento della sicurezza non sarà possibile senza un'assistenza completa da parte dei fornitori che devono assumersi maggiormente la responsabilità della protezione dalle minacce. Responsabilità quindi che si sposterà dagli individui e dalle aziende agli sviluppatori di prodotti e servizi software e verranno introdotti programmi di sovvenzioni federali per promuovere gli investimenti in infrastrutture sicure e resilienti. Questo significa che i software che fanno parte della catena, della supply chain, dovranno avere meno vulnerabilità. Oggi si stima che vengano pubblicate 77 CVE, quindi Common Vulnerability Exposure, ogni giorno e che l'applicazione media ne contenga 25 e questi numeri dovranno diminuire. Naturalmente questo discorso si applica anche al software open source e c'è il tema della responsabilità nel creare e mantenere anche la più piccola libreria open che poi finisce magari nel software commerciale. Ma questa responsabilità non deve cadere sulle spalle dei piccoli maintainer ma delle strutture che possono permettersi interventi tempestivi, hanno le risorse per farlo. Questo è un punto molto importante che abbiamo discusso anche con il direttore di Open Source Initiative Stefano Maffulli nella scorsa puntata di Continuous Delivery. Quindi chi impiega o vende software deve assicurarsi che tutti i componenti della supply chain siano mantenuti e sicuri e questo risultato si ottiene avendo consapevolezza della lista di queste dipendenze e trasparenza nel comunicarle agli end user. Lo strumento per raggiungere questo scopo si chiama Software Bill of Materials o SBOM che è una specie di elenco degli ingredienti, un inventario strutturato che elenca i componenti usati per creare un software e descrive le loro relazioni nella supply chain. Naturalmente tu non compreresti un cibo che contiene un ingrediente dannoso per la tua salute. La stessa idea si applica al software dove il rischio è naturalmente alla sicurezza dell'infrastruttura. Se assumi un software di cui non conosci la lista degli ingredienti ti esponi al rischio che questi contengano vulnerabilità che sono fuori dal tuo controllo. Questo è un punto centrale della strategia di Biden impedire che si verifichino nuovamente incidenti di enorme portata come quelli di SolarWinds nel 2020 e la vulnerabilità di Log4j del 2021. Con SBOM si garantisce che l'organizzazione che decide di adottare un software conosca non solo le dipendenze dirette di quel software ma anche le dipendenze di quelle dipendenze le cosiddette dipendenze transitive che sono altrettanto importanti e l'abbiamo visto quando abbiamo parlato di CoreJS. È già dal 2014 che gli Stati Uniti propongono di obbligare le agenzie governative di dotarsi di SBOM per ogni nuovo prodotto che acquistano e nel 2021 è diventato obbligatorio pubblicare almeno gli ingredienti minimi dell'elenco proprio a seguito dei casi SolarWinds e Log4j e questa feature diventa oggi uno strumento essenziale a un passo dall'essere quasi obbligatorio per le agenzie governative e le grandi enterprise ma il problema naturalmente è che compilare questo elenco è un processo in larga parte manuale. Ecco perché l'automazione in questo processo è cruciale. Lo standard per SBOM definito da NIST cioè il National Institute of Standards and Technology include molti elementi di ogni dipendenza il componente usato, il suo fornitore, il numero di versione e l'accesso al suo repository e ogni nuova release deve essere valutata per potenziali minacce e rischi. In grandi applicazioni, pensate ai sistemi operativi, questo processo è soggetto a errori umani e quindi l'obiettivo è cercare sempre di più di renderlo automatizzato a ogni step dalla generazione alla pubblicazione e integrare il controllo e fix delle vulnerabilità nel workflow. Naturalmente gli SBOM non sono la bacchetta magica che sistemerà i problemi di cyber security ma sono uno strumento per aumentare la consapevolezza, la conoscenza degli ingredienti che entrano a far parte del proprio software. Un altro problema che sta emergendo, chiaramente, lo abbiamo visto è che la maggior parte di maintainer del software open source che entra a far parte del bill of materials lavora gratis, è volontario quindi bisognerà trovare una soluzione non solo per rendere la catena più sicura ma anche per dare degli incentivi a chi crea e mantiene ogni dipendenza affinché adotti le best practice di sicurezza e intervenga prontamente per sistemare i problemi che emergono. E questo ragazzi era tutto, una puntata in cui abbiamo fatto un po' di divulgazione molto bene, spero vi sia piaciuta grazie per avermi seguito fin qui e noi ci vediamo alla prossima Ciao